buongiorno a tutti io sono gianluca la limina in questi incontri video talk abbiamo il piacere di avere con noi la bravissima e bellissima luisa corna ciao luisa ciao gianluca ciao a tutti grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito è un piacere averti fra di noi è un piacere piacere mio grazie ci troviamo oggi qui a parlare di questo tuo bellissimo lavoro che è uscito appunto ai primi giorni di gennaio questo singolo senza un noi dove tu canti dell'essenza dell'amore cosa ti è spinto a interpretare questo brano guardo dire che quando l'ascoltata me l'ha poi proposta riccardo brizzi che la scritta con l'arrangiamento di cesare chiodo mi è piaciuta subito perché anche la melodia che poi ha diciamo nell'inciso questa sorta così di rincorsa ma soprattutto mi ha così colpito il testo che parla di quell'amore no così come dovrebbe essere quell'amore vero quel bene assoluto che sopravvive oltre a me piace dire oltre il tempo oltre il distacco come dovrebbero essere i sentimenti quando si manifestano nella loro forma più più vera esatto è autentica autentica sì hai ragione parola giusta questa idea di amore secondo te si addice al modo di vivere delle relazioni sentimentali di oggi ma forse a volte è difficile riconoscerlo nel senso che magari sai nella frenesia no della vita ci sono delle situazioni che sembrano in apparenza amore forse magari col tempo si non si riesce a riconoscerlo e far sì che questo sia un qualcosa di solido che possa durare ovviamente nel tempo si spera si spera certo non è facile incontrarsi no che ci sia quel momento io credo che ci sia per ognuno di noi credo almeno questa è la mia convinzione che ci sia un amore in un certo senso predestinato con l'augurio che poi possa durare per sempre però ci sono no quelle quelle relazioni che in un certo senso anche se a volte finiscono ti rimangono comunque dentro per sempre sì c'è da considerare anche un periodo che abbiamo trascorso per il periodo del lockdown dove ci sono state anche alcune coppie che poi hanno riscoperto tante cose quindi non è semplice il mio infatti è stato appunto così perché ad esempio tu in questo periodo di lockdown ti sei concentrata a fare questi bellissimi pezzi questo bellissimo lavoro che uscirà nel 2021 quindi per testa da anche una grande forma di ispirazione in realtà sai dovevamo uscire l'anno scorso con questo album poi ovviamente abbiamo posticipato anche perché dovevamo girare il video e poi infatti il singolo è uscito il 5 di gennaio aspetta non ti sento più ecco sì 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 è stato un attimo sì ora sì il singolo è uscito il 5 di gennaio mentre il video siamo riusciti a farlo uscire il 5 di febbraio perché abbiamo avuto ovviamente varie difficoltà anche sai per gli attori che dovevano avvicinarsi dovevano essere sai ovviamente tamponati tamponi per tutto esatto poi dovevamo comunque girarlo all'interno di un ospedale di una clinica e questo non è stato assolutamente possibile allora abbiamo optato per una struttura che sembrava insomma non è comunque stato facile riuscire ad ultimarlo per così come l'avevamo concepito però volevo che fossimo all'interno di un teatro volevo questi due giovani attori che si incontravano proprio anche per evidenziare no tutti coloro la mancanza per tutti coloro che fanno spettacole quindi come il teatro come un emblema e d'altra parte è un anno che chi diciamo lavora sul palcoscenico ma anche per chi ci lavora dietro non ci lavora ormai da un anno infatti sì sì no vai continuo scusami no dicevo quindi ho voluto appunto evidenzare questa cosa l'incontro di questi due giovani attori su un palcoscenico l'evoluzione del loro amore e poi in questa parte finale non so se hai avuto modo di vedere il video sì come no di fatti ti stavo per fare un appunto perché nel video tu canti davanti a questo pianoforte e sei come una spettatrice di una storia d'amore da un uomo e una donna che sono poi i protagonisti del video però proprio si evince la voglia di ritrovarsi di stringersi di stare insieme e quindi dell'amore in sé esatto poi si vede anche nel tuo sguardo che comunque anche uno sguardo innamorato non è uno sguardo così a caso sì ho pensato a questa storia io ero un po come posso dire una sorta di grillo parlante che raccontava l'evoluzione della loro relazione e poi il fatto che lui è tutto molto romantico comunque perché queste candele nel pianoforte tipo comunque sempre una un ambiente intimo abbiamo bisogno di romanticismo abbiamo bisogno bisogno di valori importanti perché in un momento veramente così difficile io immagino insomma come ti dicevo c'è tanta gente che ha famiglia che non lavora da tanto e questi sono problemi molto seri è vero è vero nel tuo album in uscita comunque a breve perché è uscita questo singolo come abbiamo detto sì le cose vere cosa sono per te le cose vere nel modo attuale dove ci sono molte individualità e vita passata sui social ma per me sono gli affetti essenzialmente sono ovviamente gli affetti e la musica sono le cose quelle che sono restate nella mia vita in questi anni anche attraverso le mie scelte le mie esperienze e quindi ho voluto così simboleggiare quali sono per me le cose vere all'interno ci sono dei brani anche diversi brani che ho scritto io che parlano anche del raggiungimento di quel luogo che poi in realtà è dentro di noi dove trovi anche una sorta posso dire di serenità così sì assolutamente ci sono anche due duetti che ho fatto con questo grandissimo artista sananda maitreia che tutti conosciamo perché ha interpretato brani come sign your name scritto e interpretato divina dance leader sister insomma grandioso e con lui ho rifatto la sua storica delicate I don't know how to love che è proprio il brano di jesus qua il superstar del grandissimo musical ed era il brano che cantava maddalena e poi in un brano scritto da natalio mangalavite argentino insomma troviamo anche la partecipazione nel videoclip di javier zanetti grande interi capitano dell'inter oggi dirigente che si è prestato in questo tango argentino e insomma sono molto contenta perché la realizzazione di un progetto che stavo portando avanti da qualche anno e queste sono state scelte due perché comunque erano persone vicine alla tua vita o comunque è stata una scelta mirata sì sì no assolutamente persone vicine la fede interista quella c'è io non volevo dire però sì certo tramite la moglie di javier insomma sono riuscita prima un amico poi mi ha passato mi ha dato il contatto della moglie finalmente sono arrivata a javier zanetti lui gentilissimo si è prestato insomma lo ringrazio tantissimo anche perché secondo me aver zanetti è sempre stato anche una grande persona umana sia dentro che fuori del campo ed è la bandiera dopo gecinto facchette la bandiera dell'inter in tutto il mondo un grandissimo lui poi segue anche ha creato con la moglie con paola questa associazione pupi proprio per i bambini di argentina esatto e bambini che hanno diciamo insomma dei problemi familiari ed è secondo me è una persona veramente un grandissimo esempio per tutti anche per i ragazzi che fanno sport e non solo insomma una persona che che va al di là no secondo me anche di tutte le fedi calcistiche perché è proprio una grande persona che dello sport è riuscito a dare molto anche agli altri nella tua vita nella tua carriera tu hai intrapreso tante strade il teatro il cinema la tv però in molte interviste hai sempre detto che la musica è una parte di te e sembra sempre fatto parte di te è vero ma come è entrata però realmente questa passione ma da bambina da bambina perché avevo da chi mi ricordo c'è sempre stata poi a sette otto anni cantava all'oratorio sul teatro dell'oratorio della mia parrocchia e poi subito a 15 anni 16 anni ho iniziato a fare la spola io sono di palazzolo sull'olio una cittadina vicino brescia e quindi da lì partivo per andare esatto per andare a milano al cpm del grande musida aveva aperto questa scuola di canto sai della premiata forneria marconi esatto e ho iniziato a studiare canto lì e ho conosciuto questi musicisti con i quali ho iniziato a cantare sai nei locali nei club convention iniziato a fare appunto il lavoro di cantante poi molto più avanti andai a fare questo provino in rai per domenica in dove cercavano appunto una cantante ed avevo già 33 anni quindi un bel po di anni dopo e io nel frattempo avevo fatto la corista miguel bosè avevo fatto anche un castro caro dove ero arrivata seconda e quella diciamo era la mia professione e quindi guardi il che era il regista e frizzi mi scelsero per la trasmissione io ho iniziato a lavorare in tv come cantante da lì poi corrado il grandissimo corrado che lui mi chiamò e mi chiese se potevo appunto di incontrarmi a cine città andai insomma erano proprio i primi passi ero super entusiasta di questa cosa e mi affiancò a giampiero in grassia per un'edizione di tira e molla estate e lì ho iniziato la ricordo me la ricordo benissimo ma si è iniziato avere questa duplice veste nel senso che introducevo gli ospiti quindi ho iniziato un po non dico a condurre però a parlare e anche avere questi spazi musicali e poi piano piano insomma così sono entrata diciamo appunto nella nella televisione e la cosa bella è che a parte magari una piccola parentesi tipo di contro campo programma appunto di calcio dove non cantavo gli altri programmi perché poi ho fatto insomma c'erano molte persone anche miei conoscenti io in primis che aspettavano ogni volta la puntata di contro campo per vederti perché comunque ti vedevano appassionata del calcio in ogni caso che non è una cosa facile da vedere in una donna è vero ma perché io comunque allora venivo con cioè comunque avevo una relazione con un calciatore con il quale ci stavo da ormai da 12 anni un interista che aldo serena vabbè quello si 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 e poi mio padre era un calciatore mio padre giocava in sicilia ha giocato anche si si nelle nelle alcune squadre della sicilia serie b serie c cioè serie c poi avevano preso anche nella spalla e che all'epoca era in serie a però ha giocato praticamente quasi niente perché come entrato si è rotto la tibia il perone però comunque a fine 30 anni aveva fatto quello diciamo di di professione in squadre diciamo non del della serie top però è sempre stato un calciatore quindi il calcio per noi è sempre stato un po presente nella tua vita esatto esatto tanto che io quando ero piccolina venivo spesso anche in sicilia partivamo in macchina ci facevamo questa attraversata per farci l'estate in sicilia io dei ricordi meravigliosi conosciuto tantissime persone proprio legate anche al mondo del calcio di mio padre e tra tutti questi progetti che hai fatto appunto col teatro col cinema con la tv c'è qualcosa che tu ricordi in modo particolare che è particolarmente nostalgia ma sai ogni cosa di per sé ha una grandissima forza poi devo dire che ho avuto veramente la possibilità di lavorare anche con dei grandi perché in teatro ho lavorato con con giorgio albertazzi poi come dicevamo prima con corrado insomma con frizzi anche musicalmente ho lavorato con dato a miade insomma con ogni persona secondo me hai la possibilità sempre anche di imparare qualcosa no e di crescere perché non c'è niente come riuscire a lavorare a fianco con persone che hanno più esperienza di te e di modo che hai la possibilità anche di catturare e quello è importantissimo perché è una scuola anche quella e fausto leali con il quale ho fatto il festival di sanremo mi hai anticipato la domanda successiva grande fausto veramente una persona nel 2002 grande voce perché fausto veramente non ha niente a che invidiare le voci americane sai del sol ma lì comunque tu ti sei messa in gioco nel bellissimo palco dell'ariston però anche lì oltre a vedere la bravura di fausto leale come detto due è uscita fuori anche la tua grinta da cantante infatti anche lì si è potuto apprezzare tantissimo e soprattutto la tua voce e infatti al tal proposito ti volevo chiedere il festival come tu sai si è concluso da poco con la vittoria di questo gruppo rock dei vaneskin quali artisti ti hanno affascinato di più ma io diciamo in questi giorni tra l'altro me lo sono guardata spesso cioè mi sono guardata tutte le sei perché dovevo poi giorno dopo fare così un breve riassunto per una testata e io avevo detto già che secondo me i vaneskin ermal meta sarebbero stati sul podio loro mi sono piaciuto io amo un rock quindi loro sono veramente forti mi piace molto ermal meta perché mi piace la sua scrittura trovo insomma che ha un bellissimo mondo poetico mi è piaciuta anche a risa con la sua canzone mi è piaciuta noemi mi sono ovviamente piaciuti di martino e ecco la pesce ecco la pesce perché è la canzone bella pop musica leggerissima che ne abbiamo bisogno quel canto dorato che non stanga diciamo esatto molto bravi poi fammi pensare poi un genere magari anche più attuale così mi piaceva fasma in questo brano parlami comunque mi è piaciuto diciamo più o meno orietta berti perché orietta berti grandiosa nel suo è stata anche lei una grande novità esatto è vero sì perché la musica secondo me ha tanti no tanti mondi ed è questo il bello bisogna secondo me evidenziarli tutti questo sarebbe stato anche un mix di vari generi musicali che comunque si sono abbracciati in un'unica realtà che è stata quella di sanremo tante cose ci sono cose che non mi sono piaciute mi sono piaciuti per esempio molto i giovani secondo me i giovani sono stati forti perché hanno portato delle belle canzoni anche con il ragazzo che ha vinto ha portato un testo che secondo me già nel lì gaudiano gaudiano quando diceva quando mi guardo allo specchio vedo me c'è secondo me già lì aveva vinto perché dedicato al padre così sì ma anche gli altri hanno portato delle sonorità c'è un ragazzo adesso non mi ricordo il nome che ha portato il mondo funky era forse davide short il siciliano show bravo ecco forti perché lui ha quest'anima sol dentro di lui comunque molto bravo bellissimo perché finalmente no perché molto spesso ci si omologano e quindi si sente sempre lo stesso genere musicale ma la musica è la musica è sol la musica è jazz la musica è funky la musica è blues la musica è anche amore come fatto due come fai due soprattutto ha tante tante sfumature e quindi io trovo invece che i giovani avevano portato anche un qualcosa di di diverso e mi sono piaciuto una vendata di gioventù esatto di me è piaciuto tantissimo e bravi e per il futuro cosa stai preparando allora adesso tra un mese e mezzo circa uscirà il secondo singolo dell'album appunto le cose vere e poi naturalmente stiamo un po navigando a vista per capire cosa succederà quest'estate perché siamo pronti per il live e poi una ventina di giorni fa un mese fa Annalisa Minetti che è una mia cara amica mi ha chiamato e mi ha detto lui perché lei mi chiamava lui ti va di fare questa gemma con dei musicisti jazz grandissimi il 27 di aprile a Rimini e io ho detto volentieri dai proviamoci speriamo che ci sia la possibilità ovviamente no di di tornare a fare musica live noi siamo pronti e vogliamo così ritrovarci insomma fai a fare musica così è bello perché poi ti ritrovi tra l'altro anche con i fan anche questo secondo me in questo periodo di questo anno trascorso è contingentata ridotta certo sì pochissimi posti solo su prevenzione in base alle norme vigenti tutto in base alla dpcm alle norme vigenti esatto lo facciamo per stare insieme per sai per ritrovare un po lo spirito anche perché alla fine è un anno che non si canta quindi dobbiamo ricominciare a ritrovare e la musica deve sempre andare avanti perché un mondo senza musica è un mondo senza anima quindi è vera deve sempre andare avanti io ti ringrazio non solo non solo per chi sta davanti ma veramente certo per tutte le persone che lavorano con noi che sono dietro le quinte tutti gli indotti manager le agenzie insomma sai c'è veramente tanta gente dai tecnici che montano il palco a quelli audio insomma tutto io personalmente vedevo molte persone sicuramente avrei visto anche tu tra vari post di facebook e internet che criticavano il fatto di far fare lo stesso Sanremo però uno deve anche considerare come appena detto tu che dietro non è solo lo spettacolo di per sé che ognuno di noi guarda in tv ma ci sono tante persone ci sono squadre di tecnici manager etichette appunto agenzie pubblicitarie e tutto un indotto che permette di lavorare di far lavorare tutti non solo anche gli artisti esatto si è esatto di far rinascere un pochino questo settore hanno fatto secondo me la scelta giusta di fare che che sia è stato come uno studio televisivo no senza pubblico ovvio che sul palco hanno magari avvertito meno meno calore no perché anche Fiorello che ha bisogno sai di questa interazione e meno male che c'era lui perché lui è grandissimo riesce veramente a sdrammatizzare qualsiasi esibizione anche quella di Achille Lauro che è molto drammatico anche quella è stata un po' criticata perché lui aveva questa corona in destra tipo di spine però dico fa parte un po' anche del personaggio di quello che comunque si stava vivendo al momento no? sì lui è questo ovviamente ha questo modo di di essere molto estremamente di moda no anche per come si veste cerca comunque di stupire fa parte del suo personaggio certo è che quando si è messo a baciare tutti quanti sul palco in cui non è diciamo per i ragazzi ovviamente non è non è un grandissimo esempio però in quel momento come dicevano loro faceva un quadro musicale esatto esattamente bene io ti ringrazio luisa sei stata gentilissima e speriamo di incontrarci di vederci presto qua in sicilia in una torne magari volentieri e ti auguro una buona giornata e un in bocca al lupo per tutto viva il lupo anche a te e per tutte le persone che ci hanno ascoltato grazie a tutti